Il Vescovo Rosso Il Vescovo Rosso Il Vescovo Rosso Il Vescovo Rosso Nel 1968 Paolo VI lo nomina Vescovo titolare di La Roia nel nord-ovest dell'Argentina, dove inizia con il suo inconfondibile stile un servizio pastorale improntato da un'autentica liberazione dei Roianos. Si distingue per la sua vicinanza lavoratore e dei contadini, di cui promuove l'organizzazione in cooperative, denuncia l'usura, la droga e le case da gioco e la gestione della prostituzione in mano ai più ricchi e potenti della società loiana. Visita le varie comunità, anche le più sperdute, accompagnato spesso e preceduto dalle diffamazioni e dalle contestazioni dei gruppi conservatori, per i quali rappresenta un vero incubo per la sua franchezza nel parlare e nel denunciare gli abusi. Arrivano addirittura il 13 giugno 1973 ad interrompere con un lancio di pietra la celebrazione della messa, fomentando contro di lui commercianti e proprietari terrieri, a causa del suo sottenio minatore e manovale grecoli. La radio boicotta le trasmissioni della sua messa in cattedrale e il vescovo reagisce denunciando che, anche se ci obbligano al silenzio, Cristo parla. Mentre dall'ambone tuona senza mezzi termini, non c'è nessuna pagina del Vangelo che comandi di essere stupili, non abbiamo gli occhi chiusi né le orecchie tappate. Mentre si fa sempre più intensa la sua attività a favore dei poveri, spiega, io non posso predicare la rassegnazione, Dio non vuole uomini e donne rassegnati. Quello che vuole Dio sono uomini e donne che lottano pacificamente per la vita e per la libertà, per non finire in una nuova schiavitù. Durante una visita ad Illimina, dal 1974, ambienti vaticani gli consigliano di non tornare in Argentina, perché è a rischio la sua incolumità fisica, ma è una proposta che neppure prende in considerazione. Il 20 luglio del 1976, come macabro omaggio per il suo compleanno, gli fanno trovare, orrendamente massacrati e mutilati, i corpi di due dei suoi preti, il fideidonum francese, Don Gabriel Longheville e padre Carlos de Dios Murias, dei frati minori. Il successivo 4 agosto tocca a lui, anche se gli assassini cercano di camuffare il suo omicidio come un incidente stradale. Dalla sua automobile spinta in un burrone, sparisce una cartellina con carte compromettenti, frutto delle sue indagini sull'assassinio dei due pieti. Precedentemente il vescovo, per ragioni di prudenza, ne aveva spedito una copia in Vaticano. Qui Papa Francesco le ha fatte cercare pervenire l'attuale vescovo di La Roia, Monsignor Marcello Daniel Colombo, costituitosi parte civile contro i presunti assassini. I documenti sono risultati determinati per condannare l'allergastro, il 4 luglio del 2014, due alti ufficiali dell'esercito, gli stessi che qualcuno aveva visto sparare, il colpo di grazia alla testa del vescovo dopo il simulato incidente. Una volta che la giustizia umana ha fatto il soccorso, la diocesi di La Roia ha avviato la causa di beatificazione per Monsignor Enrico Angelelli. Ottenuto il nulla ostra da parte della Santa Sede, il 21 aprile 2015, l'inchiesta diocesale è stata quindi riaperta il 13 ottobre dello stesso anno e concluse il 15 settembre del 2016. La causa è stata successivamente unita a quelli dei già menzionati Don Gabriel Longheville e Padre Carlos de Dios Murias, ai quali era stato aggiunto Vincislao Pedernera, padre di famiglia, ucciso il 25 luglio del 76. L'8 maggio 18, ricevendo in udienza il Cardinal Angelo Amato, allora profetto della Congregazione delle Cause dei Santi, Papa Francesco autorizzò la promulgazione del decreto con cui Monsignor Angelelli e i suoi compagni venivano dichiarati ufficialmente martiri, anche se informalmente erano già noti come i martiri del Camichal. Il vescovo che voleva avere un orecchio al Vangelo e un orecchio al popolo, e che chiedeva di continuare ad attuare il concilio e continuare la promulgazione integrale dei Roianos, e quindi stato beatificato con i suoi compagni il 27 aprile 2019, presso il Parco Cittadino di La Roia, nella celebrazione preseduta dal Cardinal Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, in qualità di inviato del Santo Padre. La memoria liturgica di tutti e quattro accade il 17 luglio, il giorno prima di quello della nascita al cielo di Don Longheville e di Padre Murias. Ringraziamo Giampiero Petitti e Emilia Flocchini per il sito santiebeati.it Carissimi, anche se oggi la memoria va al curato d'Ars, il Vianney che sicuramente copre quello che è una grandezza spirituale, che probabilmente la maggior parte di noi non riuscirebbe neanche solo ad avvicinarsi. Ecco, si diceva che il curato d'Ars avesse le ginocchia quadrate, perché viveva praticamente in ginocchio. Tanto più che una volta, praticamente nell'ultima parte di vita del curato d'Ars, sentì una voce che proveniva da qualche parte, ma lui non vedeva il soggetto, che appunto lui attribuiva al demonio, che gli ha detto mi hai fatto perdere 800 anime. Ecco, questo ci fa capire la grandezza umana di colui che vive in preghiera. Il tributo, la glorificazione nostra non è tanto quella della santietà, ma tanto quello di aver strappato dal demonio più anime possibili. Ecco, praticamente non esistono formule particolari. Il Vianney ci dice che davanti al tabernacolo lui stava lì e lì è successo il tutto. Quindi, meditiamo in maniera molto pressante, molto vemente, perché molte volte noi pensiamo che... Sì, è vero, il rosario è parte fondamentale, la preghiera principe, però se al rosario noi non ci accostiamo al tabernacolo, insomma, le cose diventano un pochettino più difficili. Quindi, a prescindere da tutto, una memoria dovuta al Vianney, ma per quanto riguarda questo sacerdote, che questo monsignore, questo vescopo, che realmente aveva il cuore per gli ultimi, anche se poi noi ben sappiamo che, soprattutto, quel tipo di orientamento che lui stava avendo, molte volte ha causato dei problemi non indifferenti verso la Chiesa e anche i narratori qui lo dicono, vedendo il Concilio Vaticano II, come una ventata di aria fresca e pulita. Ecco, il Concilio Vaticano II non ha portato... Sì, ha portato dei cambiamenti, però fondamentalmente ha un po' ha un po' degenerato tutto il sistema della Chiesa, perché se noi prendiamo tutti i dati statistici, ci fanno capire che, appunto, dall'inizio del Vaticano II, tutti gli indicatori, sia di consacrati, sia di persone, di credenti, si è abbassato in maniera vorticosa. Quindi, che il Vaticano II abbia portato delle grazie, è ancora da stabilirlo. A prescindere da questo, però, noi non vogliamo entrare né giudicare quello che è stata la situazione di questo vescovo, che, a nostro avviso, poi, alla fine, lui si è comportato in maniera eccezionale, perché ha difeso gli ultimi, quindi, assolutamente. Noi, oggi, vediamo queste figure che hanno avuto un'evoluzione incredibile, perché oggi figure di questo calibro sarebbero assolutamente dei preti politicizzati vicino alla sinistra, che, comunque, in qualche maniera creerebbero degli attriti tra, appunto, la loro consacrazione e il fatto di sposare una tesi politica che va proprio direttamente contro quelle che sono le realtà del vivere cristianamente. Padre Pio diceva che non esistono cattocomunisti, o non sei un buon cattolico o non sei un buon comunista, perché non possono fondersi le due cose. Quindi, di conseguenza, onore per questo consacrato che è veramente vissuto per gli ultimi e che forse è stato uno degli ultimi icone in cui, veramente, un certo tipo di idea non è stata così vittima, realmente, di tutte quelle che sono state le politicizzazioni del tempo che poi sono venuti. Quindi, a prescindere da tutto, o sebbene comunque sotto certi aspetti lui poteva essere vittima di una certa ideologia, il Vangelo ha avuto il sopravvento, il Vangelo di vivere per gli ultimi, e di dare la vita per gli ultimi, e questo è quello che conta. Perché poi nessuno di noi ha la realtà in mano, ha la verità in mano. Certo, sappiamo che l'indirizzo è quello, duemila anni di storia ci indirizzano a questo tipo di situazione, però molte volte, anzi quasi tutti, noi sbagliamo, ma nello sbaglio possiamo fare anche le cose giuste. Quindi, le nostre idee non sempre saranno corrette, però se l'azione è giusta, penso che venga tutto comunque così, è santificato lo stesso. Ecco, l'importante è quello di far sempre per valere il Vangelo. E quest'uomo qui, veramente, anche se poteva essere influenzato da idee particolari, rinnovatrici, forse un po' troppo rivoluzionali, però ha messo sempre il Vangelo davanti e le persone davanti. Quindi, molte volte, per quanto le nostre idee possano così cercare di prendere sopravvento, chi vive veramente il Vangelo non si lascerà mai influenzare da nessuna ideologia, perché il Vangelo è fede, l'ideologia è utopia. Domine, ne in furore tuo arguas me neque in ira tua corripias me. Miserere mei, Domine, quoniam, infirmus sun sana me, Domine, quoniam, conturbata sunt ossa mea. Et anima mea turbata est valde, et tu, Domine, usque quo. Revertere, Domine, eroe anima mea, salva me propter misericordiam tua. Quoniam non est in morte, ricordatio tui in inferno quis confidebur tibi. Laboravi in gemitum meum, natere faciam tota nocte, lectulum meum, lacrimis mei, stratum meum rigabo. Caligavit pre, amaritudine oculus meus consumtus sum ab universis hostibus mei. Receditame omnes, qui operamini iniquitatem quia audibit Dominus vocem fletus mei, audibit Dominus deprecationem meam, Dominus orazioneem meam, suscipet, confuntatur et contemventur vehementer omnes inimici mei, reverantur et confundantur subito.